Ciao a tutti, oggi vi propongo il pesto di rucola e ricotta e ci condiamo delle farfalle integrali. Quello che ci serve sono della rucola fresca, del parmigiano reggiano circa 40 grammi, 15 grammi di pinoli, del sale, del pepe, dell'olio e 40 grammi di ricotta. Intanto che la nostra pasta cuoce, procediamo mettendo un po' di acqua di cottura all'interno di un padellino e aggiungiamo i 40 grammi di ricotta. Facciamo sciogliere. A questo punto procediamo con la preparazione del nostro pesto. Mettiamo un po' di olio d'oliva all'interno del frullatore. La rucola Aggiungiamo ancora un po' di olio I pinoli Il parmigiano Un pizzico di sale E un pizzico di pepe E a questo punto frulliamo il tutto Se ci rendiamo conto che manca di olio lo aggiungiamo Anche perché la salsa, il pezzo deve risultare molto fluido Una volta cotta la pasta la uniamo alla ricotta e facciamo saltare per qualche secondo a questo punto cominciamo ad assemblare il piatto mettiamo la pasta all'interno del piatto di portata aggiungiamo un po del nostro pesto di rucola qualche scaglia di parmigiano e un filo d'olio spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti il tempio di antala il tempio di antala il tempio di antala il tempio di antala file un passo avanti Grazie a tutti